Siamo anche a Carugate, ma devi essere un centinaio per occupare l'autostrada. Ciao madame, ti prendi e porta a casa. Allora è il vestito pieno ma aderisci tutto, come un'altra volta. No, perché allora sempre la... Queste risorse e queste richieste devono andare nelle tasche di chi governa, di quei potenti che stanno seduti in comodi in poltrona a decidere quale banca salvare o quale territorio combattere per far restare un po' di prima di partita. Siamo a Carperote, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avenir. Ogni contrada è patria dei ribelli, dove sorge il sol dell'avenir. Ogni contrada è patria dei ribelli. No, quello su Pinali no. E compagni liberati? Stanno dicendo che le vestite... E questo sta partendo! Chiediamo a tutti di scendere in strada e di sparsi dietro gli spezzoni! la mia lampirazzista! La mia lampirazzista! La mia lampirazzista! Torna bene! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo cazzi! Nella notte lo guidanno le stelle, porti il cuore al braccio nel colpir! Nella notte lo guidano le stelle, porti fuori il braccio nel colpire, se ci voglie la cruda e le somme, detta santi già, sicura è la sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura è la sorte del fascista vile traditore, se il bel vento a mano spera, non la casa che ero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fili berissiam. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fili berissiam. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fili berissiam. Metteva il fascista, vittoriosi al fili berissiam. Grazie.